33 anni, avvocato, sindaco uscente di Carpaneto, Andrea Arfania è nuovamente in gioco per la poltrona di primo cittadino, è uno dei tre candidati sindaco alle elezioni del 12 giugno, guida la lista civica Carpaneto Insieme, espressione del centrodestra con il sostegno di Lega e Fratelli d'Italia. La decisione di ripresentare la candidatura per la seconda tornata deriva fondamentalmente da due aspetti, il primo quello se vogliamo più tecnico che consiste nella volontà, nel desiderio di portare a termine tante cose che sono iniziate. Noi in questi mesi abbiamo, oltre alle cose già fatte e completate negli anni passati, abbiamo avviato tanti progetti, tanti percorsi che hanno già trovato la propria origine e che si stanno sviluppando. Dall'altra parte, forse soprattutto per un motivo emotivo personale, è il fatto che durante questi cinque anni e in particolare durante gli anni terribili della pandemia, si è creato un legame verso il paese, verso le persone di Carpaneto che mi hanno dato la spinta decisiva per confermare la mia disponibilità. Nella lista di Arfani ci sono sei donne e sei uomini, precisa l'attuale sindaco di Carpaneto, portatrici di competenze e professionalità, non solo persone in grado di prendere voti ma soprattutto in grado di lavorare e amministrare con competenza.